Oh ragazzi, videone, cioè avete fatto una cosa grandiosa mi è piaciuto molto, mi è piaciuto come vi siete comportati, che tipo di risposta avete voluto darmi in effetti se un po' mi sono stizzito e il fatto che voi siete riusciti a scriverlo anche senza errori ortografici mi fa ben sperare sul futuro proprio della vostra professionalità però da quando ho visto insomma quel video un effetto collaterale c'è ogni volta che chiudo gli occhi cioè a me mi viene in mente proprio la vostra faccia capito come un'immagine scheggiata capito e lì di fianco a voi c'è un pazzo con gli occhi sgranati che continua a maledire tutti i cugini di oltralpe e poi tende tipo le mani e comincia a strozzarvi cioè vi strazza così e poi comincia a borbottare a dichiarare verità, verità, questa è la verità la verità ve la dico io, lo so io la vita è come una gomma da masticare la gonfi, la mordi, la stringi, l'allunghi, la slarghi ma per quanto vuoi non potrai mai al momento in cui siete nati al momento in cui avete cercato di superare i vostri limiti questa gomma si è gonfiata e vi ha coperto la faccia e mentre voi vi dibattete urlate, gridate vi accorgete di essere ancora in radio alle 3 del mattino molta angoscia e niente vino andiamo? andiamo? andiamo con me mentre io eh 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 oh bello eh continuate ciao ciao Grazie a tutti